Benvenuti nel canale Meli Made in Sud, sono sicura che molti saranno sorpresi, ebbene sì, vi pigliate una bella doppietta, quindi un altro svuota la spesa Eurospin, ma meritava, meritava, meritava. Sono stata da Eurospin per acquistare qualche altra cosa e soprattutto sono andata in un altro Eurospin per cercare di completare la linea Zero Impact e meno male sono riuscita a trovarla, quindi non sono andata nell'Eurospin che frequento di solito, ma in un altro Eurospin, tranquilli, non sono andata girovagando, girovagando, perché si trova all'interno sempre del mio stesso comune. Poi sono stata da Lidl perché la settimana scorsa ho trovato, stavo portando giù lo al parco, è successo così, stavo portando giù lo al parco e ho trovato il volantino per fare, diciamo, questo passaggio, ho trovato il volantino, chissà come mai, di acquistapone, decosisa, Lidl, e mentre mi rilassavo al parco ho iniziato a sfogliare i vari volantini, a chi non è mai capitato. Sfogliando, 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 ho visto alcuni articoli per la decorazione della casa, soprattutto c'erano degli zerbini in muda autunnale bellissimi e tra un prodotto e l'altro ho visto una linea che sarebbe uscita il giorno 6. In realtà era un po' confusa, ho chiesto in privato anche a Betta, se questa linea uscisse il 6 o il 9, perché in alto c'era il giorno 6 di settembre e poi giù c'era un bollino con la scritta 9 settembre, ma io non l'ho capito, Betta non è riuscita a rispondere in tempo, sono stata stamattina da Lidl e ho trovato la linea, quindi esce oggi effettivamente 6 settembre. Quindi, bando alle ciance, vi faccio vedere quello che ho preso. Passiamo prima da Lidl, dal mio amore. Da Eurospin oggi potete trovare tantissimi prodotti dedicati ad una terra meravigliosa, a degli scenari spettacolari, una natura meravigliosa, delle coste stupende, credo che sia veramente unica e sto parlando della nostra meravigliosa regione Sardegna. Peraltro ho diversi parenti che ogni anno sono fedeli, restano fedeli alla Sardegna e ci sarà un perché. Passo prima con i prodotti tra virgolette random e poi vi faccio vedere la linea dedicata alle gustosità, alle culinarie della Sardegna. Mi raccomando, Sard, scrivetemi giù, date consigli, come utilizzate questi alimenti, se li avete presi, insomma, fatemi sapere anche la storia di questi piatti, così giù ci sarà una bellissima condivisione. Parto subito. Da Eurospin ho preso un litro di latte intero biologico, questo mi piace tantissimo, ve lo faccio vedere praticamente in tutti i miei video svuota la spesa. Poi ho preso un pacco di sale marino iodato fino, in realtà io prendo sempre quello fino, il grosso lo prendo più durante il mese, no il mese, che sto dicendo, nella stagione invernale perché con i reumatismi, con la cervicale faccio dei pacchi di qua, dei pacchi di là e quindi di solito lo utilizzo per queste cose, ma per cucinare, sia per la pasta che per altre preparazioni, preferisco il classico sale marino iodato fino. Poi ho preso il pane, poi ho preso i sacchetti gelo, vi faccio vedere in velocità perché queste sono cose che vi faccio vedere sempre, poi ho ripreso il pomodoro san marzano dell'agro sarnese nocerino dop, raccolto nel 2020, questi sono buonissimi, ve li faccio scusate per il riflesso, è un'azienda campana e produce questi pomodori san marzano veramente goduriosi e buonissimi e ne ho prese quattro confezioni perché nell'ultimo periodo ho cercato di utilizzare tutte le scorte che avevo, non che io avessi delle scorte per 50 persone, no assolutamente, però un pochino di scorta soprattutto in quanto a scatolame la faccio regolarmente, ho finito le scorte e sono andata a prendere un pochino di pelati, questi sono i miei preferiti in assoluto da Eurospin per quanto riguarda i pelati, le altre versioni non mi piacciono, questo secondo me è il top, poi mi sono ripresa altre due confezioni di camomilla con melatonina, sono 16 bustine senza zuccheri, concilia il sonno ed è una camomilla istantanea, devo dire che ne ho provate, allora quando ho fatto la spesa non me lo ricordo, comunque da quando ho fatto la spesa forse tre giorni ne ho provate tre, non mi ricordo, devo dire che mi piacciono tantissimo, ho notato che io non è che abbia tutte queste difficoltà nell'addormentarmi, no, però ho notato una notevole differenza tra quando assumo questa bustina e quando non l'assumo, soprattutto ho notato che ho meno risvegli notturni, anche qui, però devo dire che ho sentito la differenza, quindi ve le straconsiglio, soprattutto per chi ha difficoltà nel prendere sonno oppure magari ci sono tantissimi risvegli durante la notte, provatelo perché almeno io mi sono trovata bene, peraltro per pura casualità, da Lidl in procinto della cassa ho trovato uno stand a 2,69€ se non erro, comunque vi metto qui la fotografia della Bonomelli con la stessa camomilla con melatonina, l'ordine degli ingredienti è differente ma siamo sempre su un grammo di melatonina se non erro, comunque vi metto qui la fotografia, controllate e c'è una netta differenza di prezzo e comunque qui stiamo parlando di un prodotto di qualità perché come vi ho fatto vedere nel video precedente è prodotto dalla Ristora e queste costano 99 centesimi e sono sempre 16 bustine, quindi top. Poi, poi, poi ho preso le mie amatissime treccine integrali, ve le ho fatte vedere appena sono uscite, tutti, tutti le hanno acquistate e sono impazzite. Queste sono prodotte dalla Bauli e sono più buone delle originali. Ora, per me gli originali sono sagri, ok? Quindi, partiamo da questo presupposto, sono la prima che lo dice, ma queste superano quelle della Mollino Bianco. Riscaldatele, mi raccomando, per qualche minuto o anche per una manciata di secondi, eh? Però li dovete riscaldare, mi raccomando, da un lato e poi dall'altro sono la fine del mondo. Buonissime, quindi mi raccomando, se non l'avete ancora provate perché si stanno aggiungendo sempre più persone nuove, ricevo sempre dei messaggi sotto ai video. Melania sono una nuova iscritta, Melania sono una nuova iscritta, quindi per tutti i nuovi iscritti, mi raccomando, provate quelle treccine perché sono favolose. Peraltro, vi ringrazio per essere approdati qui sul canale. Poi, ho ripreso le farci orange, merendina a base di pan di spagna, farcita con crema all'arancia e ricoperta al cacao magro. Queste piacciono tanto a Silvano e una volta ogni... infatti non le compro sempre, una volta ogni tanto Silvano dice, Melania mi dai una brioscina con un po' di caffè amaro e quindi ogni tanto le prendo. Devo dire che sono buone, per tutto il periodo estivo le abbiamo tenute, questa tipologia di merendina, all'interno del frigorifero perché altrimenti, per quanto riguarda il sapore, ma anche tutta la consistenza, diventa un papocchio. Poi, al reparto gelati, sono ritornati i bonbon assortiti. Questi sono gli ultimi gelati della stagione estiva, poi passerò ad altro. I bonbon assortiti, questi li ho ripresi perché mi sono piaciuti tantissimo. Se andate nei vecchi... nei vecchi, nei video svuota la spesa precedenti, vi faccio vedere proprio la novità di queste simil bomboniera. si aprono qui, a mo' di scrigno, e sono buonissime. Buone, buone veramente. Anche se accompagnate... e sono delle monoporzioni, vedete? Anche se accompagnate al caffè rigorosamente amaro, come dico sempre, sono veramente la fine del mondo. Restando in tema di gelati, sono delle novità che in realtà già ho visto precedentemente, però una volta ho comprato una cosa, una volta ho comprato un'altra e questi non li ho mai provati. Ed essendo la regina dell'Eurospin, io queste cose ve le devo mostrare. Biscotto Trigusto della Dolciando con latte italiano. Questi li proverà Silvano, io darò un morsetto e poi li vedrete nei prodotti finiti. Quindi trovate questi gelati in monoporzione, poi trovate della linea alle nostre stelle il Big Choc con mandorle, con latte 100% fresco italiano e per ogni gelato nuovo che vi mostro c'è la specifica Forest Alliance, che è una certificazione, poi farò un video a parte sulla certificazione, sulle varie certificazioni che un prodotto deve avere, soprattutto per quanto riguarda determinati alimenti, come in questo caso l'utilizzo del cacao. Insomma, comunque è un certificato importante, quindi forza Eurospin che è riuscito ad ottenere questo certificato, che sarebbe questa piccola ranocchiella, ed è appunto un Simil Magnum mandorlato. E poi abbiamo, sempre della linea alle nostre stelle, il Simil Cornetto Algida, sempre con 100 grammi per il Simil Magnum, poi 100 grammi per il Simil Cucciolone e poi abbiamo 120 grammi per le Simil Bomboniera. Fra tutti, siccome quelli non li ho provati, se riuscite a trovare tutti i gelati, vi consiglio di provare queste. Vi avviso che è tornata la farina integrale di grano tenero, vi metto qui la fotografia, ideale per pane, pizze e focacce. Perché ve lo specifico qui? Perché tantissime di voi mi hanno mandato dei messaggi in privato su Instagram, a proposito, su Instagram mi trovate con il nick Melimade in Sud, dicendo, Melania ma quando torna questa farina, se la trovi ce lo fai sapere? E quindi sappiate che in questo momento, almeno nel mio Euraspin, è tornata disponibile la farina e la trovate nel cesto dei prodotti nuovi, quindi non nel reparto classico delle farine. Nel reparto invece farine, lievito per dolci, gocce di cioccolato, insomma tutte queste cose qui, ho trovato la polvere lievitante vanigliata in questo formato. Ok, sono quattro buste per dolci da forno, per un totale di 64 grammi, lievitazione istantanea con cremo tartaro ottenuto dall'uva ed è senza glutine. Ok? Quindi ci sono queste specifiche. È la prima volta che vedo questo prodotto e devo provarlo. Vediamo un po', vediamo un po', ha un ottimo potere lievitante ed è l'ideale per creare dolci soffici con una delicata nota di vaniglia. La polvere lievitante vanigliata è senza glutine e non contiene ingredienti di origine animale. Quindi questo può essere veramente un plus in più. Stavo cercando l'azienda, sì, è un'azienda italiana, quindi soprattutto per gli amanti di dolci, dolciumi, torte e queste cose qui, sappiate che trovate questo prodotto da Eurospin perché appunto avendo all'interno un ingrediente abbastanza di nicchia perché non è semplicissimo trovarlo il lievito a base di cremo tartaro, sappiate che lì lo trovate. Poi ho trovato da Eurospin, mi ha dato subito la sensazione della pastiera, vi ricordate quando è uscita la pastiera da Eurospin? Se lo ricordo vi metto il video nelle informazioni oppure giù in info box, altrimenti andate a ritroso nel canale e lo ritroverete, anche perché ve la mostro in anteprima. Stamattina ho trovato la crostata ai frutti di bosco, praticamente il pack è uguale, quindi la confezione è uguale ed è da 380 grammi, è un'azienda italiana perché già ho controllato lì da Eurospin e all'interno abbiamo la farina di frumento, lo zucchero, la margarina, il tuorlo d'uovo pastorizzato, uova intere, miele, agenti lievitanti, aroma naturale, vaniglia e poi abbiamo la farcitura a base di passata ai frutti di bosco, abbiamo un 44%, un 43,5% per l'esattezza, frutti di bosco in proporzione variabile tra cui fragole, more, lamponi, mirtilli neri, vabbè poi c'è lo zucchero, gli addensanti eccetera eccetera, chissà com'è, chissà com'è perché ripeto la pastiera che abbiamo trovato da Eurospin, spero che ritorni signor Eurospin ci riporti la pastiera, era veramente qualcosa di spettacolare, anche Giulio ne ha andato gli otto, proveremo questa e vi farò sapere, le ritroverete sempre nei prodotti finiti. Adesso passiamo alla linea dedicata alle ricette, o meglio non le ricette, ai prodotti tipici della meravigliosa Sardegna, io mi sono appuntata a tutto perché avevo paura di dimenticare, io ho acquistato solo due prodotti perché già avevo fatto la spesa, poi avevo anche altre cose e quindi acquistare molte cose, cioè siamo tre persone o meglio due e mezzo, quindi però ho fatto le fotografie e ho scattato le foto anche alle aziende, così se le conoscete scrivetelo giù nei commenti. Allora è uscita la ricotta salata di pecora tipica della Sardegna, poi abbiamo il formaggio dolce da tavola, vi metto sempre qui le fotografie, poi abbiamo il formaggio pecorino e abbiamo le provolette, trovate da Eurospin sia la provola dolce che la provola affumicata, poi abbiamo un gustosissimo trancio di guanciale, mi sta venendo l'acquolina in bocca, abbiamo la salsiccia curva sarda o un langorino, poi abbiamo le sebadas, scusate per le pronunce, poi abbiamo il formaggio grattugiato fresco, la ricotta fresca di pecora e basta. Ah e poi abbiamo gli altri due prodotti che vi faccio vedere adesso, giusto? Ok, allora il primo prodotto che vi mostro della linea Sardelizie, quindi tutta la linea si chiama Sardelizie, io ho preso il pecorino fuso spalmabile piccante, perché ho detto devo prendere qualcosa di estremamente godurioso e questo mi ha ispirato tantissimo, la confezione è da 200 grammi, il barattolo è in vetro, formaggio pecorino fuso spalmabile piccante, ingredienti formaggio ovino al 90%, tra parentesi latte ovino, sale, caglio, fermenti lattici, chiusa parentesi e poi abbiamo l'acqua, origine del latte Italia trattino Sardegna, vi faccio vedere anche l'azienda e non vedo l'ora di provare questo pecorino fuso spalmabile piccante, io lo spalmerei su un bel crostone di pane, bello caldo e croccante, secondo me è da svenire, è da svenire. Voi Sardi e Sarde, come lo utilizzate? Fatemi sapere giù tra i commenti e poi ho preso, aspettate perché ho paura di sbagliare alla pronuncia, non sia mai, culurgionis, la cadenza è giusta, doiastra, IGP, troviamo la certificazione IGP e anche la certificazione del simil raviolo, perché come potete notare sono dei ravioli, sono dei ravioli, vedete come vengono chiusi, quasi come i ravioli cinesi, non sto dicendo che sono dei ravioli cinesi, capite? Ma vedete che la pasta è tutta pizzicata e hanno l'ispirazione nel ricreare un figo pressato ed una spiga. All'interno di questi meravigliosi ravioli troviamo un cuore di pecorino stagionato e menta, cioè una cosa super super godoriosa. Ora, scrivetemi giù nei commenti il condimento originale di questi sim, no ravioli, si chiamano culurgionis, culurgionis doiastra, non sono ravioli, sono questi, i ravioli sono un'altra cosa, cioè più simile, va? Ok, quindi fatemelo sapere sotto nei commenti qual è il condimento top per questo prodotto che mi sa sarà buonissimo. poi, no, che poi che, già con la geritima è riconfuso, io sono un po' confusa, mi sto corriendo, calma, calma e sangue e freddo, qualcuno mi dice ma perché stai corriendo? Perché tengo la batteria a scarico e quindi sto corriendo perché mi metto paura che non riesco a registrare, scondrino, prezzi. Allora, i culurgionis costano 3,39 euro, il latte intero 1,19, poi ho preso i sacchetti gelo 99 centesimi, il sale iodato 39 centesimi, i pomodori san marzano 99 centesimi, pecorino fuso 2,49, la crostata 3,99, i bonbon gelato 1,79, le camomille 99 centesimi, le trecce integrali 1,39, i biscotti trigusto 59 centesimi, i biscotti trigusto, chi sono sti biscotti trigusto? 1,39, i biscotti trigusto, ah, il gelato, il simil cucciolone, mamma mi sto provando alla nuto, 59 centesimi, il cono 59 centesimi, il cono 59 centesimi, no, il simil magnum mandorlato sempre 59 centesimi, il cono simil cornetto algida invece costa 49 centesimi e poi il lievito per dolci 59 centesimi, ora ci spostiamo da Lidl, ho fatto una gaffa, non ci spostiamo da Lidl, perché io sono andata principalmente da Eurospin, oltre per prendere, oltre per prendere appunto, ma che è stamattina, non riesco a dire una frenza di parole, come soffro, sono andata per cercare il preparato per pancake nel reparto frigo, i prodotti della linea Far Delizie e poi per cercare gli altri due prodotti per andare a completare la linea Zero Impact, nell'ultimo svuota la spesa Eurospin vi ho fatto vedere i due prodotti, entrambi da 300 ml, stiamo parlando dello shampoo e balsamo e del detergente intimo, questi ve li ho fatti vedere nel video svuota la spesa precedente, nell'ultimo video. Poi guardando il video di Betta, Elisabetta R, vi lascio il link del suo canale giù, se me lo ricordo, se non dovessi ricordarlo, per cortesia Betta o me lo scrivi tu o me lo ricordate voi, lei ha fatto vedere altre due tipologie di prodotti, mi ha detto, guarda che la linea si compone di quattro prodotti, in realtà nel primo Eurospin, quindi quando sono andata io, ho controllato tutte le boccette e c'erano solo ed esclusivamente queste due referenze, stop. Stamattina invece nell'altro Eurospin ho trovato tutte e quattro le referenze, anche lì ho dovuto scavare, però comunque le ho trovate, ma non lo so, signore Eurospin com'è questa cosa? Com'è che lei ci fa andare al manicomio? Una cosa una parte, una cosa l'altra, addirittura tante ragazze mi scrivono, me l'hanno i prodotti che tu mostri, io manco li vedo, signore Eurospin, con mamma mettere un'omma a sta cosa? La dobbiamo sistemare, signore Eurospin, signore Eurospin, lei invece di stare assentita a chi se ne intende dei suoi prodotti, lei mandi i prodotti a chi tende centinaia e centinaia i follower, ma i prodotti, questo ne sapo proprio, signore Eurospin, per cortesia, cambi politica di marketing, comunque, a me ogni tanto, perché è una cosa che io non sopporto, la meritocrazia, dove sta, come diceva il grande Totò, comunque, l'Eurospin, chi sta, ha già trovato chi sta, allora, il bagno schiuma, tè e cocco, e poi il sapone liquido, con bambù, avocado e tea tree oil, allora, questo è il bagno schiuma, sentiamo il profumo, l'ho detto che sono entrambi da mezzo litro, quindi per il bagno schiuma e il sapone liquido abbiamo due confezioni da mezzo litro, per lo shampoo e il sapone intimo abbiamo la confezione più piccola, ok, quindi da 300 ml, ora sentiamo il profumo del bagno schiuma al tè e al cocco, allora, io sento il tè, sento una ventata di freschezza, il cocco si sente alla fine, ok, però appena annusate sentite subito questo profumo energizzante, frizzante del tè e poi sul fondo una leggera fragranza di cocco, quindi, vi faccio vedere anche la lista ingredienti, aspettate un attimo, ok, sentiamo la profumazione del sapone liquido con bambù avocado e tea tree oil, questa è la lista ingredienti, ok, sentiamo il profumo, allora qui, io ci sento l'avocado, anche un bambù, qua trovate un pezzo di bambù dentro, ma che resti capito di fare una pazza? Anche una punta fresca del tea tree oil, si sente, insomma, sentite tutto, però in primis io sento il bambù, no, il bambù, sì, anche il bambù, l'avocado, qua sento dell'avocado, però non l'avocado chimico, quella roba tutta chimica, no, l'avocado naturale, zero impact, perché vi ricordo che abbiamo il 95% di origine naturale ed è tutto riciclato, tappa, bottiglia, cartellina, acur di cielo e tutto questo, l'unica cosa, poi ci ho pensato quando li ho utilizzati, perché nel mentre ho utilizzato sia il sapone intimo che lo shampoo, allora, poi voi lo dovete togliere il cartellino, giusto? Perché lo mettete in doccia, vabbè, chi non ce l'ha in doccia, vabbè, però comunque, quando vi dovete lavare, non è tanto per l'intimo, vabbè, e non è manco tanto per lo shampoo, perché volendo, ma anche no, il cartellino si impone, voi tenete il cartellino qui e si impone, quindi lo dovete togliere, giusto? Guardate quel ragionamento, una volta che voi lo avete, questi cartellini, no? Aspetta perché non mi confondo, come facete a sapere qual è il detergente intimo e qual è lo shampoo? Vabbè, questo capisce perché è lo shampoo, ma come lo capite? Io capisco il riciclo, capisco l'impact e tutto quello che ho pulito, ma almeno una scritta riciclata, ci ho potuto mettere con su scritto detergente intimo e sapone, per esempio, per le mani, perché è così, come si capisce? Aspettate, questo è il detergente intimo, non mi scambiccio oggi, perché sennò ci busciamo con il sapone intimo, e viceversa. Quindi questa cosa non la trovo, secondo me è da rivedere, ma non da rivedere, bisogna modificare questo aspetto, perché se no, eh, ho detto tutto. Quindi la stessa filosofia vale queste due cose, per il bagno schiuma e per il sapone liquido. Voi lo vado un quarto gel, ma ci do sapete chi si usa buono liquido e chi si usa un bagno schiuma, non c'è una dal profumo. Eh, però, voglio dire, se è sempre una cosa bella e buona e non lo puoi odorare all'improvviso, comunque, mi raccomando, non aprite i bottiglioni nei supermercati. Grazie, eh, ma io non lo so, se poi non mi piace, corri il rischio. Slangia di come diceva il grande De Sica, però va uno e ne apre uno, va un'altra e ne apre un'altra. Prima non è igienico, ma non solo adesso che c'è la pandemia, sempre non è stato igienico, sta coso, e poi anche una mancanza di rispetto, poi il prodotto si deteriora, perché voi ha rapito oggi, ha rapito in mano, ha raponato, ha rapato così, ha rapato così, e la fragranza fu riesce. Non mi fate nervosire. Adesso sì che ci possiamo spostare da Lidl's. Da Lidl's. Ho speso 13,45 euro. Allora, innanzitutto vi faccio vedere una cosa che non ci azzecca niente con il beauty, ma ci azzecca con la panza e le pacchetelle. E sto parlando delle pallet di Mozart. È uscita un po' di tempo fa, la settimana scorsa, sì, quando è uscita la settimana scorsa, non mi ricordo, betta, scrivilo. La linea... La linea tedesca. Alpenfasto style. Alpastan bastan, ticchi ticchi ta, trintintintintin da. Allora, da quando sono uscite queste palle di Mozart sono rimaste nel mio cuore, perché sono una droga. Non le avete mai provate? Provatele una volta e non le lascerete più. Sono qualcosa di libidinoso, di gustoso, di portentoso. Sono a fin lo moon. Vedete queste pallanti qua? Infatti, se voi andate a vedere Instagram, nelle foto dell'autunno scorso, trovate tante fotografie con queste pallanti, perché hanno questo still life, questo stile still. Queste pallanti, quanto costano? 1,99. Sì, 1,99. Quindi, l'altra volta, la settimana scorsa, ho detto, ma mi guarda, sono uscite le palle di Mozart. Ma mi va capìa. Poi ho detto, lasciamo perdere, perché sennò queste pallanti vanno nelle paccanti. O stamattina ci sono passato vicino e sentivo Mozart che faceva. Una sinfonia. Prendimi, prendimi. Oh, devo mai farmi la colpa. No. Quindi sono venuta a casa com'è. E adesso vi faccio vedere la linea. Allora, vi parlo innanzitutto della crema, della crema viso che io non ho acquistato, perché ho già due creme in tonze. Quindi acquistare la terza crema per me era un vero e proprio peccato. Comunque, vi lascio qui la fotografia della crema, con i vari utilizzi, le varie proprietà appunto della crema e anche la lista ingredienti. Ok? Quindi qui abbiamo la foto con la linea completa e qui vi faccio vedere l'unica crema, l'unica referenza che io non ho acquistato. Quindi stiamo parlando della crema viso. Nello specifico, la linea è Age Beauty ed è adatta alle pelli mature. Io ho preso tutti gli altri prodotti, quindi la crema notte. Aspettate. All'interno abbiamo anche la vitamina E. Aspettate perché cerco. Mamma mia, mi ha scritto piccolissimo. Aspettate. Adesso ve lo leggo. Con l'età la barriera lipidica della pelle tende ad assoltigliarsi. Di conseguenza la pelle risulta più secca e fragile e possono comparire piccole rughe. I prodotti della linea CN Age Beauty arricchiti con preziosi ingredienti come l'estratto di miele di Makuka. No, Manuka. Scusate. Mamma mia, mi ha scritto piccolissimo. Mi sto cioccando. Manuka. L'olio di soia, l'olio di mandorle e il burro di karité sono stati appositamente sviluppati per prendersi cura della pelle secca e matura. Grazie alla vitamina E e all'estratto di miele di Manuka e all'olio di soia ricco di Omega la pelle risulta acquidratata e ha un aspetto più giovanile e rivitalizzato. Vabbè, comunque lasciamo perdere sta cosa. Lasciamo perdere. Perché i miracoli li fanno soltanto o i medicinali che trovate in farmacia oppure le sedute dal chirurgo. Tutto il resto è noi. è così, è un prendersi cura. Però, e ho detto tutto, la linea è questa qui. Scusate, vi ho accecato. Ok. E vi faccio vedere la confezione. Questi sono dei prodotti, l'azienda è inglese. UK. Il pack è molto luxury. Mezza, cara. È molto lussosa. Vedete, eh? Che bel pack che ha. Bellissimo pack. È vetro. Dovrei fare la prova col dente. Però chiuso mette muc su cosa. Allora, abbiamo il... Mamma mia, il profumo è qualcosa di paradisiaco. Mamma mia! Mi sa che vado a prendere anche la crema notte. Cioè, la crema al giorno. Mamma mia. Profuma tantissimo. Ha un profumo di una crema di altissima profumeria. mi ricorda una crema di Collistar che ho provato un po' di tempo fa. Allora, la confezione è da 50 ml per un pao di 12 mesi. Mamma mia, ma è scritto piccolissimo. Sì, è un'azienda americana. Eh, va a buccio di... È un'azienda inglese. UK La... Ma come io sto avendo problemi? Io non ci... Ma sono io che ho problemi? Cioè, è scritto troppo piccolo. Aspettate. È scritto piccolissimo. Anzi, qui è zoomato. Mi è scritto piccolissimo. Comunque, la profumazione di questa crema è qualcosa di divino. E adesso vi lascio anche la lista ingredienti. Ve la metto qui. Ok, quindi top. Questa costa 2,99. Poi, ho preso... Questo è un cleansing oil. Peraltro mi è stato consigliato, perché questa linea è già uscita, mi è stato consigliato da una ragazza su Instagram, Federica, se non erro, Illuminami. Fate, ma sono andata a controllare il messaggio che ho ricevuto su Instagram, perché volevo essere sicura che fosse Federica, perché una cosa che non sopporto è non dare il giusto peso e la giusta importanza alle persone quando lo meritano. E quindi ci tenevo tantissimo. Lei non è che mi ha detto, mi devi nominare. No, è una cosa proprio che mi viene dal cuore. Quindi, siccome lei me l'ha consigliato, e mi sono riletta anche il messaggio, ho detto no, devo dire il nome preciso della ragazza. Quindi, Federica. Federica, eccolo. Eccolo, ti ho ascoltata. Allora, valla a leggere in italiano. Allora, è un olio con un paio di 12 mesi, olio struccante, olio struccante deterge in profondità lasciando sulla pelle un delicato profumo di miele e rimuove efficacemente anche il make-up waterproof, quindi anche il trucco a lunga durata, il trucco resistente all'acqua. Anche quello toglie. Grazie al suo complesso di oli derivati dalla soia, dal girasole e dall'albicocca, quest'olio struccante è particolarmente adatto alle pelli secche. Uso applicare quotidianamente al bisogno una o due gocce sulla pelle umida massaggiando dolcemente, infine risciacquare bene, tollerabilità, eccetera, eccetera. Quindi vediamo questo prodotto com'è, sentiamo il profumo. Il profumo non mi fa proprio impazzire, sa di girasole. Io ci sento tantissimo il profumo di olio di girasole e per chi è abituato ad utilizzare gli oli, quelli puri, ma anche gli idrolati, sicuramente, e acquisteranno questo prodotto, sicuramente lo associeranno all'olio di girasole. Effettivamente all'interno c'è, quindi questo, quindi, 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 quindi. Na, 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 na. Zan, zan! Questo l'ho pagato. 2,99. Comunque tutta la linea costava 2,99, tranne il contorno occhi 2,49. Poi ho preso il siero. In realtà io ero andata positivamente per il siero Poi ho detto vabbè O Federica Maite prendi l'olio Poi volevo una crema Da notte ma più che altro perché volevo una crema Molto corposa per l'inverno E quindi agitpeghiamo tutto questo Io vado per le strette Age Beauty Siero al miele E alla vitamina E Mamma mia non ce la faccio all'edge Guardate questo siero come chic Guardate questo siero chic Guardate Perché noi ci dobbiamo chiccare Guardate qui che pecc Che confezione snob Che confezione snob Con la pompetta Guardate qui Sentiamo il profumo Mi piace Secondo me si asciuga anche abbastanza Abbastanza velocemente Però ha sempre quella profumazione Differente dalla crema notte Ha una profumazione differente Però è estremamente piacevole Mi piace Ha un pao di 30 mesi Cioè scusatemi È una confezione da 30 ml Per un pao di 12 mesi Il siero dice che è Made in Germany Quindi il siero è tedesco Non è made in UK Aspettate che controllo anche l'olio No l'olio è UK Siero invece è tedesco Allora cosa promette di fare Questo siero Grazie alla vitamina E All'estratto di miele Di manuca E all'olio di soia Ricco di omega La pelle risulta più idratata E liscia La genisteina Presente nella soia Agisce favorendo La sintesi del collagene E conferendo alla pelle Un aspetto giovanile E rivitalizzato Allevia le tensioni Nutra e idrata la pelle Rende la pelle più liscia Soda Eccetera eccetera Sul collagene Anche no Vabbè comunque Lasciamo perdere Io l'ho preso Per andare a idratare La pelle Soprattutto durante il periodo Autunnale Invernale L'ultimo prodotto È il contorno occhi Con la stessa scia Di ingredienti Quindi abbiamo sempre E O di grimana Abbiamo sempre L'estratto di miele Di manuca E la vitamina E Tutta la linea Si concentra Su questi due Attivatori Su questi due ingredienti Ha la capacità La capacità Della pelle Di legare acqua E migliorata E la pelle rafforzata La formulazione Con estratto di miele Questa è una scrittura Più umana Di manuca E olio di soia Ricco di grassi Idrata la pelle Per una pelle Più soda Tonica E un contorno occhi Morbido Risultato La genisteina Presente nell'olio di soia Agisce favorendo La sintesi Del collagene E conferendo alla pelle Un aspetto giovanile Rivitalizzato Uguale a Al siero Questo è il contorno occhi Allora Il contorno occhi E' sempre Made in UK Ha un pao di 6 mesi Ed è da 15 ml Ovviamente Mentre io parlo Vi metto sempre Le fotografie Con la lista ingredienti Per ogni Per ogni prodotto Non vedo l'ora Di provarle Di fare una skin care Completa Con questi prodotti Devo dire Che quello Che mi ha fatto Innamorare Senza ancora Averlo utilizzato E' La crema notte Perché ha un profumo Spettacolare Sa proprio Di crema Ma non solo Di crema buona Sa di crema buona Ma Di altissima profumeria E quindi Se dovessi consigliare Perché gli altri prodotti Cioè Io non ho provato Niente di questi prodotti Ma Sulla base Solo ed esclusivamente Dell'olfatto E A sensazione Vi consiglio Di prendere La crema notte Soprattutto Per chi soffre Di pelle secca Secondo me E' un Magari Compra solo la crema Per la notte E La può applicare Di giorno E di sera Perché appunto Avendo la pelle Molto secca Essendo una crema Abbastanza consistente Secondo me Può essere l'ideale Sia per il giorno Che per la notte Spero di avervi tenuto Compagnia Sono sicura Che anche Beta Acquisterà qualche pezzo Quindi Noi ci compariamo E ci scompariamo Noi ci vediamo Al prossimo video Vi ricordo Che mi trovate Anche su Instagram Col nick Meli Made In Sud E come sempre Un bacio Un abbraccio E un tarallino Mua Mua